Un applauso da Geiger e del metro che... Vesca, vesca, immaginate questa... Ce la suggerito al sista... Che vuole essere vero... Hai un'altra gaia qua, non c'è mai... Allora, velocemente una spiega su che cosa... No, no, perché scherzi? Non possiamo togliarla, eh? Vero? Avete detto... Cioè... Siamo congiunti... Ci siamo congiunti? Cioè, ci siamo facciati una volta... Cioè, ci siamo facciati una volta... Cioè, ci siamo facciati... Cioè, ci siamo facciati... No, intanto... Complimenti... Non so a chi vi lo fa... Chi dobbiamo farvi per il bike-in... Un applauso a chi ha avuto quest'idea... E fatto l'esercizio... Io sono un ciclista... E... Anche un po' che c'è... Sì, sì, molto... E... No, nasce veramente da Covid... Eh... Vi ricordate... Il fine... Il mese di marzo... Quando alle 18 si riusciva sui balconi a cantare... Sì, azzurro... Orlino d'Italia... Fuori sui balconi... Sì... Andrà tutto bene... Che porta una sfiga, ragazzi... Non è vero... Io c'ho ancora una maglietta di un noto stilista... Non mi faccio il nome... E l'ho scritto... Siamo di Milano... Milano never stops... Il giorno dopo... Ho chiuso... Il mondo, ragazzi... Ma tu... Sei felice? Oh signor... Cominciamo bene... Ma che domanda è di vedere la cosa intendi per felice, no? Felice... Se per felice intendi uno che è soddisfatto di sé di quello che fa ed è felice... Allora no... Non sono felice... Ma se per felice intendi uno che è soddisfatto di sé di quello che fa... Anche se non è proprio felice... Allora sì... Sono felice... Ma infatti... Ma lì è mia moglie che mi metti tu... Ah... Ecco da dove arriva... L'altro giorno sono lì che sto per uscire... Lei mi guarda negli occhi e mi dice... Ma secondo te noi... Siamo felici... E cosa vuoi che le rispondono? Sono già di... Che sto andando in posta... Ti metti a farmi inquizio... Eh... Le donne sono fatte così... Domandano... Un sacco domandano... E se non gli rispondi e si arrabbiano... Un sacco si arrabbiano... Ma... Poi ogni giorno ce n'è una eh... Oggi è la felicità... L'altro giorno le camicie... Tanto bella... Perché su quel colletto particolare... L'ho scelta apposta per il colletto qua... Che ha anche un nome particolare... Si... Si chiama... Alla... Egiziana... Egiziana... Indiana... Indiana... Una marocchina... Marocchina... Adesso mi ricordo... Comunque qualcosa di extracomunitario... Ma dimostrazione che anche loro quando vogliono... Le cose le sanno fare... Ma anche lì... Scusa... Parlando di camicia... Ti sembra il modo di stirarla... Tutta stropicciata... Tu... Prova a dirlo a mia moglie... Lei... Allora stiratene te... Lei non ti ci viene da stirare camicie... Bravo... Ma voglio da dire... Poi adesso... Non voglio... Sembrare un fighettino... Tu ricordi... Gli anni settanta... Andando in giro... Lattaloni... Di maglietta... Pi-pum-pum... Quello che capitava... Dallo spettacolo... E ti ricordo che in quegli anni... C'erano le bombe eh... Non si scherzava negli anni settanta... Come ti ricamavano quegli anni lì... Qualcosa di metallico... Anni di piombo... Piombo... Bravissimo... Non so perché... Mi viene sempre il bette zinco... Tu comunque... Dici che... Facevi un po' quello che volevi... Sì... Negli anni settanta... Ma sai qual è il problema oggi? Che non siamo più negli anni settanta... Purtroppo no... Siamo nel 2000... E neanche il 2001... 2002... 2003... 2004... 2005... 2006... Ma anche arrivare a 20 è lunga... Ci sarei arrivato comunque... Siamo nel 2020... Bravo... Nel 2020... Non c'è niente da fare... C'è una sensibilità diversa... Bravo... Mica con gli anni settanta... Io vado in posta... Sì... Mica con gli anni passaggio...